Con la concentrazione di 500% il nostro dispositivo è iniziale e in un giro è uscito a mantenere una delle concentrazioni di display di 500% e un smartphone dove è iniziale un'operazione di foglie letterali sottile all'assenza dei tasti fisici che sono stati spostati sul retro del dispositivo questa soluzione è già stata portata a tutti i cittadini di fio ma qui viene ancora portata a fare un'altra cosa con i design, le tasti che abbiamo avviato gli ambienti e le indigna con le cuffe e il giornale con le cuffie il pallone posteriore ci permette di portare una metallica con un portone innovato che serve per una volta di foglie digitali e ci permettiamo anche di rivedere la seconda testa principale questo smartphone che è la portata posteriore se l'accompagnata assieme alle strade la condizionazione è una serata che permette con le cuffie con le cuffie